Ben trovati da Cronach, dunque l'ennesima storia di caporalato è venuta alla luce nelle campagne della Sicilia, nel Trapanese e nel Ragusano. Nel primo caso diversi lavoratori immigrati, diversi migranti, lavoravano fino a 12 ore al giorno, in cambio ricevevano soltanto pane e acqua. Gli Aguzzini erano due agricoltori, padre e figlio, che sono stati arrestati. Stesso copione nel Ragusano, in questo caso era un imprenditore albanese che sfruttava e riduceva in semischiavitù i propri connazionali. Braccianti stranieri pagati 3 euro l'ora, un tozzo di pane duro e acqua per cibarsi, prigionieri nelle fogne a cielo aperto, lavoratori comunitari irregolari tenuti sotto ricatto e costretti a vivere al di sotto della soglia della dignità umana, la polizia ha scoperto altre due storie di sfruttamento lavorativo e abiezione, divenute ordinarie nei campi italiani dal mezzogiorno a profondo nord, e hanno arrestato gli Aguzzini nelle campagne siciliane, storie di degrado estremo, stavolta nelle province di Ragusa e di Trapani. Qui siamo a Marsala, nel Trapanese, dove due agricoltori, padre e figlio, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di sfruttamento aggravato della mano d'opera, costringevano gli immigrati, in parte irregolari, a raccogliere uva e olive, turni di lavoro fino a 12 ore al giorno, senza riposo, dalle 5 della mattina. Paga massima 3 euro l'ora e un panino secco. Quella che stiamo per ascoltare è un'intercettazione tra un caporale e un migrante sfruttato che tratta sul salario giornaliero. Si lamenta con il suo padrone, lo chiama così, che la mangiaria, il panino distribuito a pranzo, è troppo piccolo e cattivo. Gli sfruttatori invece si rivolgono ai lavoratori, chiamandoli con il nome della settimana una delle loro vittime, Raggio Vidi. Quanto paghi? 30 euro in mangiaria. Panino. Che? Ok. Ok. Ah? Panino no buono. No buono? Sì, non l'abbiamo mangiato oggi, troppo duro. L'intercettazione continua, il caporale per soffocare le proteste sul salario e il numero di ore lavorate, minaccia di non andare più a Campobello di Mazzara a reclutare i raccoglitori. I lavoratori stranieri, in parte con regolare permesso di soggiorno, venivano reclutati direttamente e illecitamente nei centri di accoglienza per migranti e portati nei campi. Al tramonto venivano costretti ad alloggiare qui, giacigli rabberciati in questi capannoni fatiscenti, senza aree e senza igiene. Queste invece sono serre nel Ragusano, qui la polizia ha trovato una donna incinta che raccoglieva melanzane, il termometro che segnava 40 gradi, poco dopo si è sentita male per la fatica. In quest'altro caso Laguzzino è un imprenditore agricolo albanese di 34 anni e arrestato per lo sfruttamento di secco nazionali, denunciato anche suo padre. Gli braccianti erano pagati pochi euro l'ora e costretti a dormire in alcuni magazzini tenuti come porcili. Le strutture dove avevano ricavato alcuni alloggi non avevano le fogne e i liquami ristagnavano a cielo aperto. Aria respirabile in un assedio di topi, in mezzo uomini e donne trattati come bestie. A Firenze questa mattina si sono svolti i funerali in forma privata delle giovani di 29 anni, travolto sabato scorso durante un inseguimento tra due auto guidate da Rom, Rom che restano in carcere per omicidio volontario. È il tempo del silenzio ora, poi verrà quello della giustizia, detto il parroco nella sua omelia. Il fatto però ha riportato alla luce il problema dei campi nomadi e degli alloggi popolari assegnati agli stranieri. Adesso è il tempo del silenzio, poi verrà il tempo della giustizia, ma mai della vendetta e dell'odio, pronuncia queste parole Don Massimiliano Gabricci, mentre celebra l'ultimo saluto a Duccio Dini, il giovane di 29 anni morto lunedì scorso dopo un incidente stradale causato dalla folle corsa in auto di alcuni Rom impegnati in un regolamento di conti. Le sue parole esortano a stemperare la tensione cresciuta a Firenze dopo questo episodio, nel mirino il campo Rom del Poderaccio, dove vivono gli autori dell'inseguimento finita in tragedia. 300 persone lunedì si erano presentate, non senza attimi di tensione, davanti al campo per protestare. Il silenzio ora ha accompagnato tutta la messa, silenzio e commozione. Il funerale si è svolto per volere della famiglia in forma strettamente privata per evitare strumentalizzazioni. La stessa motivazione che ha spinto gli amici di Duccio ad annullare questa sera la fiaccolata organizzata nel loro quartiere. Tra i presenti anche il sindaco Dario Nardella, che ha assicurato che il campo del Poderaccio verrà smantellato non in quattro anni come previsto, ma in 18 mesi. Per le famiglie che vi risiedono saranno individuate soluzioni abitative alternative, ha detto Nardella, senza alcun privilegio, senza ricorrere a case popolari né a misure ad hoc come villaggi precostituiti. Ieri Nardella ha scritto anche al presidente della regione Enrico Rossi per chiedere che nella nuova legge sulla casa in discussione in consiglio regionale venga favorito il criterio della residenza, ovvero vengano privilegiati nell'assegnazione di una casa coloro che risiedono a Firenze da più anni. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro portato a spalla degli amici e coperto dalle maglie della Fiorentina, squadra del cuore del San Michele, squadra dove aveva giocato Duccio. Un applauso che idealmente ha tributato tutta la città con il lutto cittadino, le bandiere a mezzasta, i minuti di raccoglimento negli uffici, nelle scuole, nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali che per qualche minuto hanno tenuto le saracinesche abbassate. Il tema dell'immigrazione, dunque in questo momento sulla nave Aquarius, vi do proprio un aggiornamento, Aquarius approderà in Spagna come previsto, sta andando verso Valencia, lo precisano fonti del governo che escludono l'arrivo della nave in Italia, in questo momento il mare è mosso e quindi l'Aquarius ha cambiato la rotta, comunque c'è la conferma che arriverà in Spagna. Dunque in questo momento sulla nave Aquarius ci sono 123 minori non accompagnati, 11 bambini, e 7 donne in gravidanza. Ieri invece a Catania dalla nave della Guardia Costiera sono sbarcati 200 bambini, molti non accompagnati. I numeri parlano di una emergenza, nell'emergenza numeri che sono stati resi noti, scusate, questa mattina da Save the Children che parla di oltre 18.000 bambini non accompagnati che sono ospitati nei nostri centri di accoglienza. A volte bastano gesti semplici per strappare un sorriso, ad un bambino intanto serve quello, un semplice sorriso, è quello che hanno fatto gli operatori sanitari della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato durante lo sbarco di ieri mattina a Catania nella nave 18 della nostra Guardia Costiera. È bastato confiare dei guanti in lattice o presentarsi con un orzacchiotto di peluche per dare qualche istante di felicità ai numerosi bambini che sono sbarcati dalla nave. Su 900 migranti i minori erano 200, una percentuale altissima, quasi tutti non accompagnati. I minori non accompagnati che sbarcano nel nostro paese sono sempre di più e poi nessun paese europeo li vuole, non ricollocati, si direbbe in linguaggio burocratico. In occasione della giornata mondiale del rifugiato Save the Children ha presentato un rapporto dal titolo Crescere lontano da casa. Secondo i dati raccolti dall'organizzazione sono 18.300 i minori stranieri non accompagnati che sono ospitati dal sistema di accoglienza in Italia. Una presenza costante e significativa sul totale degli arrivi dei migranti via mare in Italia. Più del 13% tra il 2016 e il 2017, addirittura salita al 15% nel 2018. La metà dei piccoli è ospitata in Sicilia, il 43%, solo il 3% di loro va in affido. Sono 306 i minori stranieri non accompagnati che hanno ottenuto un provvedimento d'affido in Italia nel 2017. 236 ragazzi e 70 ragazze, la metà di loro a 17 anni. E poi ci sono quelli che arrivano e scompaiono. Vanno via, non si sa dove. Per le statistiche si definiscono irreperibili. L'anno scorso sono stati più di 5.000, un numero allarmante, anche se in calo rispetto agli anni precedenti. Quasi uno su tre di quelli approdati in Italia. La maggior parte delle volte si allontanano dalle strutture di accoglienza perché vogliono raggiungere altri paesi europei, spesso per ricongiungersi ai familiari o agli amici. Vengono spesso respinti alle frontiere. Secondo Save the Children l'Europa ha fatto troppo poco nei loro confronti perché non li accoglie. Alla fine i minori stranieri che raggiungono in maniera legale un altro paese europeo sono davvero molto pochi. E c'è un'altra emergenza, quella degli incidenti sul lavoro. 8 ore di sciopero nei tre turni con presidio e blocco delle portinerie. Lo stabilimento Fincantiere di Sestri Ponente sono state proclamate dopo la morte. Avvenuta ieri di un operaio di 43 anni che lavorava per una ditta d'appalto. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 15 metri mentre lavorava su una nave in consegna. E questa mattina a Milano ci sono stati momenti di tensione durante lo sgombero di alcuni alloggi popolari. Ci sono stati momenti di tensione con i centri sociali. Un ragazzo di loro ha minacciato di gettarsi dal davanzale della finestra. Gli agenti arrivano intorno alle 9 al civico 59 di via Palmanova periferia est di Milano per sgomberare i 12 appartamenti occupati abusivamente due mesi fa. Traffico paralizzato e tensione per tutta la mattina. Dentro le case vuote in attesa di essere assegnate ci sono giovani dei centri sociali e famiglie in maggioranza straniere, 22 adulti e 8 minori. La polizia li accompagna fuori uno a uno. La preoccupazione però resta perché un ragazzo dei centri sociali non vuole uscire. Sale sul davanzale dell'appartamento e minaccia di buttarsi fuori nel cortile interno. Viene predisposto un materazzo dai vigili del fuoco. Ma per fortuna intorno alle 12.30 anche lui viene portato via senza incidenti. Fuori la polizia preside all'area. Arrivano una trentina di antagonisti. Dentro c'era anche un neonato. Sono quasi tutte donne italiane e straniere. Molte lavorano a ore come domestiche negli appartamenti della zona. Le occupanti abusive di questo stabile. Siamo tutti qua che abitiamo da maggio. Siamo tutti da maggio. Le case erano rovinate, erano pardonate per anni e anni. L'abbiamo sistimate per restare dentro. Dove andiamo? Sì, siamo entrati positivamente. E cosa dobbiamo fare? Siamo stati al centro. Cosa ha fatto il comune per noi? Le case occupate fanno parte del patrimonio immobiliare gestito da metropolitane milanesi che su tutto il territorio di Milano e dell'area metropolitana possiede circa 28.000 abitazioni vuote da risistemare e poi assegnare. Sono circa otto al mese gli sgomberi concordati con la prefettura. Poi ci sono gli interventi che arrivano dopo le segnalazioni in tutto. Circa 15 ogni mese. La protezione civile rimane fuori dallo stabile cercando di convincere almeno le donne con i bambini ad andare nei centri gestiti dal comune. Ma nessuno accetta. A Napoli adesso dove restano in carcere un 19enne con precedenti penali alle spalle e un 17enne figlio di un boss della Camorra accusati di avere ucciso un giovane di 28 anni all'uscita di una discoteca durante un litigio. Ancora non è chiaro chi dei due abbia fatto fuoco. Ma quello che viene fuori è il profilo del 17enne. Un profilo di un ragazzo violento è spietato. Spari davanti alla discoteca e un ragazzo ucciso mentre la gente dentro ancora balla per futilissimi motivi. La vittima aveva tentato di mettere pace tra due fidanzati o meglio aveva redarguito lui invitandolo al rispetto della ragazza con cui discuteva. Ma si tratta così una donna e quella domanda gli è costata la vita. Carabinieri e polizia dopo tre giorni di indagini hanno ricostruito così la tragedia di domenica notte all'uscita di una discoteca a Coroio, quartiere Bagnoli a Napoli. Un giovane ammazzato a colpi di arma da fuoco aveva 28 anni, Agostino Di Fiore, punito per non essersi fatto gli affari suoi secondo il codice della Camorra. Apparterrebbero ad ambienti di malavita organizzata i due fermati, Francesco Esposito di 19 anni e un minore di 17. Le indagini della procura napoletana si basano sulla visione delle immagini del sistema di sorveglianza. Tutto è cominciato dentro la discoteca. Agostino interviene e difende la ragazza. Si avvicinano due, tre amici dei due litiganti. La ragazza invita Agostino a farsi gli affari suoi. Volano calci, pugni, spintoni, poi tutto sembra tornare alla calma e dalle telecamere non si vede più nulla. Ma all'alba, quando Agostino esce dal locale per tornare a casa, trova i suoi assassini ad attenderlo. Mentre sta dentro la sua macchina, cerca di scappare. I due si avvicinano. Quello che all'arma in pugno gli spara diversi colpi, uccidendolo. Due poliziotti fuori servizio bloccano il maggiorenne e lo portano in caserma. Il retroscena ancora più inquietante. Esposito aveva chiamato al telefono l'amico minorenne, ritenuto dagli inquirenti un rampollo del clan Elia. Vieni subito, sto all'esterno della discoteca a Coroio, capisci a me. E poi allude ad una pistola. Il 17enne che avrebbe portato l'arma al compagno era già intercettato perché indagato per una serie distese, in particolare quella clamorosa dell'11 aprile nella centralissima piazza Trieste Trento, dove una baby gang sparava all'impazzata in prossimità di un bar frequentato da numerosi giovani. In attesa dell'esito della prova dello stube per chiarire chi ha premuto il grilletto, per entrambi il GIP Paolo Abrunetto ha convalidato il fermo con parole durissime anche nei confronti dei genitori. Appare evidente l'incapacità della famiglia di contrastare gli impulsi devianti del minore. Il minore in questione, attualmente rinchiuso nel carcere di Nisida, risiedeva nella zona del pallonetto di Santa Lucia, dove recentemente è scattata la sottrazione di decine di minori ai genitori e l'affidamento a casa e famiglia. I genitori utilizzavano i figli per confezionare e spacciare droga. Il ragazzo ucciso abitava a Secondigliano invece, organizzava eventi e feste per bambini. Questo era il suo onesto lavoro. Cronache si conclude qua, grazie per averci seguito e buona giornata. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti.